buongiorno sure e buongiorno sure benvenuti in questo nuovo video come state spero tutto bene allora oggi video in collaborazione con questo brand che si chiama miscia temante sapete che con le pronunci sono pessima quindi ve lo scrivo qui lo leggerete qui faccio vedere spero che si legga allora mi hanno spedito appunto questo pacco guardando c'è qualcosa altro dentro vi faccio vedere anche qua anche il retro spettate e il davanti che così allora mi hanno spedito questo qui che io sono veramente contenta di fare questa collaborazione guardate che bello che è è veramente bello allora mi ha mandato la l io spero che mi vada bene ma adesso vi spiego a cosa serve e poi lo metto lo metto insieme a voi così vediamo com'è indossato quindi è tutto un pezzo con il pantaloncino vedete e sulle spalline ha comunque come registrino che potete regolare l'altezza allora guardate che un po indietro i capelli allora quindi se io lo metto così anche un po qua la scollatura quindi con una maglia scollata ho messo scollato non dovrebbe vedersi no è fatto veramente bene quella voglio fare vedere è un tessuto elastico che deve andare a comprimere il corpo e a fasciarlo si mette senza reggiseno e mutande quindi la biancherina intima non serve più diciamo che con questo risparmiate sul reggiseno e sulle mutande perché è molto confortevole aiuta a sostenere la pancia e il seno e quindi promette di essere molto comodo guardate come è fatto dentro vedete questo qui sorregge bene se le cuciture ve lo voglio far vedere ovviamente al meglio comunque ha indossato non non segna ma aiuta a modellare il vostro corpo a sostenere la pancia e seno e potete indossarlo con un vestito e non si vedrà niente sotto proprio effetto seconda pelle insomma anzi se magari c'è qualcuno che qua un po di ciccetta questo dovrebbe comprimere e quindi non far vedere nulla e dare un'ottima vestibilità potete usarlo anche per fare sport perché è molto comodo ma adesso io ve lo mostrerò indossandolo e farò qualche piegamento per farvi vedere che effettivamente si può fare ed è comodo spero che la taglia sia giusta che mi vada bene perché se grande magari viene un po meno questa cosa però spero di no quindi lo vado a mettere torno subito allora eccomi qua l'ho indossato guardate ho dovuto allungare le spalline perché per me erano troppo corte mi ha andato mi ha mandato una taglia l ma va benissimo si fa leggermente fatica a tirare su nella parte del sedere ma poi va su benissimo è molto comodo devo dire mi piace molto anche questa scollatura cioè con una giacchettina su potrei uscire anche così allora mi ha mandato per la taglia così a meno vi regolato loro mi ha mandato nelle e io sono una 42 quindi così vi regolate sulla vostra taglia insomma allora vi faccio vedere ecco qui questo è il prodotto quindi non ha cuciture vedete senza cuciture è stato di disposto i capelli dietro è così vedo che segna bene comunque il gluteo e e questo è allora adesso facciamo i movimenti vedete accompagna benissimo il corpo e non da per niente fastidio faccio vedere di lato penso che lo squat sia il movimento perfetto per far vedere se un movimento è quello che vai proprio giù è più difficile diciamo no quindi fermo che molto comodo che fascia bene il seno quindi a l'imbottitura però il leggera cioè è perfetto e lo vedo veramente che mi sta bene adesso vi faccio vedere com'è indossato con un vestito eccomi qua con il vestito ho scelto questo perché è un vestito che va aderente quindi vi faccio vedere che non segna vedete spero che si veda bene ecco così devo scrivere più in fondo qui dietro è così poi ditemi cosa vedete voi come vi sembra e arriva appunto il vestito qua e il pantaloncino ce l'abbiamo qui quindi un pezzo più più su insomma e non mi non mi fa il segno tipo come delle cazze dovessi mettere degli attore genti magari quanto il segno lo fa questo invece no io segni non li vedo anzi la pancia non c'è e io ce l'ho un po ce l'ho e devo dire che non dà assolutamente fastidio cioè io lo amo già questo questo come non mi dire il nome come si chiama corpino corpetto no ma neanche guardate anche al seno vedete non fa segni non ha segni non ha segni che tante volte il seno fa un po' la ciccetta qui fa un po' la ciccetta quindi io sono molto positiva mi piace tantissimo lo trovo molto comodo adesso che cielo su che lo sto tenendo abbiamo visto che possiamo fare ginnastica e giuro giuro che non mi dà fastidio perché a me non mi interessa dirvi le bugie io ci metto la faccia e vi voglio dire le cose effettivamente come sono e già come prima impressione cioè devo dire che è comodo quello che è comodo non anche sulla pancia me la sento bene è un prodotto che comunque è fatto per farci stare meglio sia col nostro corpo e sia nei movimenti perché delle volte quando non siamo perfette no e ci muoviamo certi modi magari si vede un po la ciccia qua la ciccia la questo qui tiene tutto bene dentro però è molto 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 comodo e quindi non dà assolutamente fastidio comunque se volete saperne di più di questo prodotto io vi lascio tutto in descrizione apritela sempre datemi un occhio vi lascio nome sito tutto quelle tutte le informazioni che avrete bisogno insomma per guardare valutare datevi andate sul sito andate a leggere tutta la descrizione o i modelli dato un occhio al sito è veramente bello fatto bene e sono andata a vedere le mie che mi ha mandato perché non gli ho dato la mia taglia ma gli ho dato le misure quindi le misure del seno della pancia del sedere e in base alle misure vi danno una taglia quindi non potete sbagliare niente spero che questo video vi sia piaciuto come vi ho detto trovate tutto giù in descrizione date sempre una sgrigiatina fatemi sapere che cosa ne pensate di questo prodotto innovativo e noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando statemi bene ma prima di andare via ehi raga facciamo festa ciao